ti amo la parte 2 di via san andreas da parte 1 si è andata a farci forte stava sicuro il numero 1 i due invece visto che il numero pari ci piace un po' di più è molto annegato chissà come mai veramente di due che è molto annegato o mi sono rotto i maroni sai ah da quando ce li hai li vuoi vedere li faccio vedere in camera no a parte non me lo farebbero mettere su youtube tieni oh che cosa sta facendo sta cavando il bovaccio sei mosso sono più bravo nooo la sopragettile la puttana dove 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 andiamo a prenderla ah no scusa ho sbagliato signore mi dispiace in realtà non mi dispiace per nulla guido io fanculo guido io si ma scusa per gli spari è ovvio che non si ferma no doin ski in realtà minuto in realtà a non 20 minuto ,